Marco Dell'Acqua ha candidato l'8-9 giugno alle elezioni comunali di Pavia nella lista della Lega per Alessandro Cantoni sindaco. Siamo in uno dei punti più belli e caratteristici di questa città che merita più turismo e le azioni concrete sono aumentare la recettività turistica con bandi per la ristrutturazione edilizia, fare attività di incoming, far aumentare il turismo, soprattutto turismo religioso e denogastronomico. Sono Eugenia Marchetti, sono un consigliere comunale e sono candidata per la Lega alle prossime elezioni amministrative di Pavia a sostegno del candidato sindaco Alessandro Cantoni. Pavia è la mia città che amo e per questa ragione ho deciso di prendermene cura. Due temi che devono essere immediatamente posti all'attenzione dell'amministrazione, il decoro e la sicurezza. Il decoro perché questa città che è un gioiello merita di essere pulita e merita di essere la casa pulita e ordinata di tutti noi. Secondo tema, la sicurezza, che non deve essere una minaccia a libertà ma un valore sui quali i cittadini devono poter contare. Questi sono i valori in cui io ed Eugenia crediamo. Noi ci siamo e vogliamo contribuire al cambiamento per la città di Pavia. Per questa ragione l'8 e il 9 giugno scegli di votare la Lega e scrivi sulla scheda azzurra dell'Acqua Marchetti.